Benvenuti in un nuovissimo episodio di Bloodborne, sono in compagnia come al solito di Anzo per un nuovo boss, benvenuto Salve ragazzi Come state? No, questo lo dico io Ormai te l'ho detto, ho deciso di non dirlo più perché non mi sento risposto Non mi sento risposto dai miei adoratori di fan Non senti risposte allora va bene Allora siamo in un nuovo boss, adesso dovremmo recuperare poi quello della belva lì a setta di sangue Ma oggi siamo qui per un nuovo boss che io non so qual è tra parentesi Quindi lo scopriamo, lo scopro da solo Questo ragazzi è il first try di Jack, diciamo così Ah attento appena... Cosa devo fare? Attento cosa? No, no, scusate ragazzi C'ho i traumi del Vietnam con Bloodborne Del Vietnam con Bloodborne praticamente Vai vai, ti aspetta Non farlo aspettare Ma no, forse ho capito chi è Lo sapevo io Lo sapevo È il tipetto Il fatto che si sente pochissimo No, ah A parte che è una donna È la tizia No, non so chi è, scusa, mi scherzavo Chi è costei? Ma è un boss di quelli grossi, giusto? Lo guardi adesso No, intendo dire non è un boss affoltativo No, no, questo è obbligatorio Che cazzo Ma la stai vedendo anche tu la cutscene? Eh, anche se non la vedessi me la ricordo la cutscene tranquillo Ma chi è? Ma chi è? Eh, eh Eh, che topone Eh Eh Ma guarda, così quasi ti lascio farlo da solo No Consiglio Non farti colpire E vabbè Grazie Ma sai che sei meraviglioso poi mentre ti fai ammazzare praticamente Eh, o anche i migliori La legge La legge fondamentale Oh Eh È bella incazzata Sicuramente è bella incazzata Ah, fa le cose per terra Cioè, tira le attacche ad aria Si chiamano zampate qui da qua Io continuo a girargli intorno Vedo che funziona Tu stai essendo il giocatore migliore di me in questo momento ma Oddio Gli stai lanciando le molotov ma seriamente Non gliele devrai lanciare? No, certo che li vuoi lanciare ma non la prendi Poi è bello che punta a te quindi Si sa che c'è Eh Bello E io ciccato Poi è bello ragazzi Di solito Di solito Eh Senta sempre lui Perché lui è comunque lost della partita Nel terreno Io invece sono Come si chiama Vedete che ma schiacciato C'era solo che Eh Ho notato Ma già schiacciato con amore Che cosa No È morto È morto Anza Eh Vorrebbe essere un problema Diciamo che Dovremmo essere forse un po' intensivi Credo Penso Perché comunque No, colpa mia Sono molto Si Intenzionata a visionare la boss fight Momento No, no Momento tattico Ci sta No, no, no Ma anche se non lo stessi facendo Tranquilo Porca troia Uh Uh Aspetta 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 Che questo è veramente Adesso io Vorrei Uh Momenti di panico Momenti di panico potenti Troia 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 Scusate Diciamo che Non è molto abituato A fare i boss Non l'ho neanche stunnato con la cosa Vabbè Non è che lo stunno ogni volta Signori Sono morto Ma dov'è la tua resistenza? La tua resistenza? La tua determinazione? Vicario Amelia Signora Amelia O Amelia No Amelia Scusami Era una lei Amelia Amelia Sembrava Umelia Che è un'altra cosa Quindi Eh Ci riproviamo Vero? Eh beh Ovviamente Cioè Mi sembra pure logico Eh Diciamo io propongo una tecnica più aggressiva stavolta Perché vedo che Io ti chiamo Din don Cosa? Ah 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 Va Va Ho capito Che non è che comincia la scuola Ma Eh No Io pensavo Pensavo fosse il tizio rosso io Quello Questo qui guardate gente Questo qui stresciante Pensavo fosse lui Che poi ragazzi il problema è che Jack ce l'ha con questo povero Io adesso immagino che mi stia facendo vedere Ma c'è con questo povero coso Che è praticamente uno slime Cioè Che cazzo Ma no Ho detto Magari colpa sua Ma io te Allora Io Glielo ho detto Questo è l'unico povero Cristo Che sembra È vero che non è bello Perché letteralmente È uno slime È gollum Non so neanche come possa definirlo È tipo gollum Ma di colore Senza gambe Ok Io sono al falò Ah ecco Hai scoperto un suono Il suono di una campana Echeggiante piccola Campana echeggiante piccola Questo è il bello Io ho scoperto il suono di uno Che vuole fare un boss Ma non ci riesce Più o meno Sei cattivo Sei molto molto Se fossi solo Probabilmente morirei Ogni 4 secondi Devo essere sincero Molto sincero Deve essere sincero con se stesso E col mondo in realtà Vabbè dobbiamo dire una cosa Eh però Il belva Setata di sangue Che Oh cazzo È stata Più dolorosa Di quanto potessi No sì Ci abbiamo messo Molto Nel senso che ci abbiamo Vabbè qui schippiamo Quelli che possiamo schippare Che Ci abbiamo messo abbastanza Eh devo dire Però Alla fine è stato comunque Voglio dire Avere il primo boss Per Jack difficile Sinceramente è stato Qualcosa che È stato divertente Sì peccato che non Non ci è venuto in mente Di registrare Lì sul momento Più che altro ragazzi È che sapete A stare a fare comunque Più tentativi Registrati Vabbè tipo Come stiamo facendo adesso Comunque Se ne fanno tante Eh beh sì Ma no le altre scale Dove stai andando È questo qui Lo shortcut Te l'ho detto Lo shortcut Va bene Non me lo ricordavo più Uh salve Buonasera Dove Dove Salve saldino Salve Ah ah Scusate Io sono davanti Odio Ragazzi io Questa cosa me la sta continuata dire Continuamente Jack Ma io sto andando troppo veloce Dice Dice a suo parere però A mio parere Potranno confermare Io non sono Non l'ho esplorata così bene Da poter dire È così o è cosa Hai già trasformato Tra l'altro Eh vabbè Amelia Aspetta Venga Io ti lascio dentro da solo adesso Perché? Perché sono stronzo Ecco io Io Non riesco Devi andare Le sai dove Tipo sul So che suona male Detto così Ma devi andare Aspetta aspetta che devo capire Ciccia Che poi Io mi sono invocato l'arma Però Non so se Non mi ricordo se a me Era debole al fuoco O qualcosa Go Non è che gli abbia fatto granché Quando gli ho lanciato la Cosa eh Eh non l'hai preso No no La Molotov l'ho preso Con la Molotov l'ho presa A me è sembrato che Era andata a fuoco Oh Ci sta Uh Gli ha fatto una critica Ho fatto Esatto Adesso Dietro indietro 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 Che non ho voglia di Prenderle Ma la mia Oh già gli abbiamo fatto di più eh Eh ma Il fatto è che Prima stiamo Il prima Forse Cioè A me è dato questa impressione Che tu stavi andando anche Molto più Stavo andando Molto più tranquillo io Ahia Stavo andando Molto più tranquillo io Perché Cos'è? Per caso è lei Che si trasforma? È già trasformata Fino a prova contraria Poi Io ti faccio Una combo pazzesca Stavo indietro Ciao No è l'evoluzione È un Digimon Amelio è un Digimon Eh E questa me la devo segnare ragazzi Nella serie precedente Il vocabolario Amelio è un Digimon Poi io Avevo letto Amelia Perché vedo che c'è molto Della chiesa qua Quindi ho detto Bloodborne è molto Bago di schifo a chiesa È l'unica cosa Che mi sembra Logica da quando è iniziato a giocarlo È basato su Mattiello Secondo me Eh sì sì Ci sono un sacco di chiese Di Come? È diventato più Era più bianca Per una scuola Ahia 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 Amelia Foglio il colpo critico Eh Sperta perché non sono riuscito Mi ha schiaffeggiato malissimo Quindi Sto schiaffeggiando malissimo Perché vai dietro Stronza Jack Vai vai Lo faccio io Vai Quando Jack Non prende i critici Ragazzi Eh ma devi farglielo alla testa Scusami eh Eh vabbè ovviamente Perché urla Signora Perché si cura Veramente? È un po' Sì Una curata Sai di quello Un po' Tarocco Quello un po' Un po' Che non è proprio Una cura Ma Ti dici vabbè Può andar bene Comunque La mia quasi fa Il fatto che Il fatto che Ne siamo aggressivi Comunque Ma io lo sto attaccando Da dietro E io davanti Oh cazzo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Se moriva ragazzi È come È successa la stessa cosa Quando abbiamo fatto La bestia Come si chiama La bestia sedata Dei sangue Voilà Gli avevo fatto anche la kill La cosa E abbiamo Pre Il cipre La mia ciondolo Il cipre Il ciro Abbiamo ucciso il ciro Ovviamente Vicario Amelia Andato Il cipre E la battaglia finale Si è ormai conclusa Ah sì Perché Oh c'è un teschio qua Esamina Abbiamo anche una cutscene Eh beh Ovvio Interessante Ora Non so se te l'avevo detto Ma questa informazione Questo è il primo boss Che fa cambiare le cose Nel mondo di gioco Fra virgolette Diciamo Sentiamo Vicario No 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 Solo questo Poi Io adesso sarebbe fare scone Ah ok ok No Ma tu non mi darai scone Ti ricordo di non scontare Il nostro mondo Non lo sentiamo Poi Siamo nati dal sangue Resi uomini dal sangue Annientati dal sangue I nostri occhi Sono ancora chiusi Teni il sangue Ora devo andare Wow Ma quindi non ho capito Chi era il teschio Adesso Ah no C'è ancora la cutscene Ma chi è questo Un prete? Per l'idea di Lorenz Tenilo Un certo Lorenz Che non so se è morto Quindi se è il suo teschio O O non so Bah Però Non scoprirai Allora Qui Accendo la lantierna La lantierna E come al solito Torno al sogno del cacciatore Cavolo 15.000 echi Sono Cosa buona E ho 7 punti intuizione Più Mi pare 9 Teschi del folle Non mi ricordo se si chiama così Ma quando gli spacci Si si era Vabbè Conoscenza del folle Ma è uguale anche con Teschi del folle Si capisce Quello che vuoi intendere Ah si 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 Qui è scomparsa la nostra amica È andata a farsi un sonnellino Non so se c'è qualcosa da prendere Tra gli oggetti Di nuovo Che Intanto compare qualcosa di nuovo No E il bastone filettato Io ho visto qualche video Signori E lo dico anche te Anzo Che diventa Quello che diventa Lo so già Ma se mi avevi già detto Che ti ispirava E mi ispira Perché diventa frusta E non so Non so Però vabbè Si vedrà Per adesso Lascia quella che preferisco Dunque Sì Direi che abbiamo fatto Una bella boss fight Se il video vi è piaciuto Mettete like Se non vi è piaciuto Non mettete like Iscrivetevi al canale Accendete la campanellina Per rimanere aggiornati Sui prossimi video Da Anzo E da Jack Da Game Channel Anzi Facciamo di E' tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima